Abbiate cura anche della vostra alimentazione e della vostra nutrizione perché mettere il giusto carburante all'interno del vostro corpo aiuta a mantenerlo sano ed avere cura del vostro strumento perché ricordate se il nostro strumento si rompe se non abbiamo cura del nostro corpo aggiustarlo è molto invasivo quindi preveniamo dei determinati danni e abbiamo cura di quello che è la nostra quotidianità